Luigi Mirto ritorna ad Augusta, lo fa per la seconda volta con una mostra, Anonimi Siciliani. Come nasce l'idea di questa mostra, come si realizza, come si evolve? Raccontaci. Allora, questa mostra nasce prevalentemente su un invito che ho ricevuto dall'assessorato territorio e ambiente di Palermo che hanno organizzato una mostra sulla Sicilia, quindi sull'uomo e sull'ambiente. Difatti il titolo è che è stato oggetto di una mostra già a Palermo, l'uomo e l'ambiente. I fotografi eravamo due. Io mi sono occupato dell'uomo, quindi della persona, mentre la mia collega Giulia Maggi si è occupata del paesaggio siciliano. Io ho cercato di prendere delle immagini di altri lavori che io avevo già in cantiere, perché è stata una cosa improvvisa. Ho cercato di prelevare delle immagini che si accumunassero in questo titolo e quindi creare un filo logico per arrivare a questo risultato. La Sicilia è famosa per la sua policromia. Perché raccontarla in bianco e nero? In bianco e nero intanto perché il bianco e nero è la forma d'arte, secondo me, della fotografia, l'aspetto più artistico, perché vengono valorizzate delle sfumature, dei chiaroscuri che naturalmente con il colore non si possono ottenere. Perché il colore rende un'immagine un po' più moderna. Mentre il bianco e nero è la forma che ti riconduce un pochettino al passato. Poi la scelta del bianco e nero per i ritratti, secondo me, è la forma più idonea per poter esprimere meglio l'espressione dal volto, la drammaticità, l'allegria, lo stato d'animo di una persona. Quali strumenti hai operato? Dallo scatto allo sviluppo? Allora, intanto le fotografie sono state realizzate tutte con pellicola, quindi sviluppo analogico, sono state riprese tutte con Hasselblad, con il vecchio sistema, quindi magazzino, la pellicola, sono stati sviluppati, scansiti, poi dopo che ho ottenuto il negativo ho fatto la scansione con lo scanner e quindi poi ho ottenuto il file e alla fine, dopo aver impostato bene il computer, quindi ho ottenuto la stampa in bianco e nero. Gli scatti sono stati costruiti? C'è stata questa necessità? No, allora, è una mia prerogativa di non realizzare mai un ritratto costruito, ma cerco di, come è successo anche con la precedente mostra che ho portato anche ad Augusta, creare un certo rapporto con la persona, quindi non impostare la figura secondo il mio intendimento, ma lasciare alla persona la propria posa, la propria posa naturale, in modo tale che possa cogliere proprio lo stato d'animo della persona, l'espressione vera, quella della naturalezza, e non costruire un'immagine perché poi sarebbe diventata falsa. E di fatti nelle immagini si vede proprio l'espressione del volto, la posizione del braccio o della testa, cioè non è costruita, perché un'immagine quando è costruita si vede, ecco. In un brano di Gesualdo Bufolino si parla di isolitudine, cioè di quel piacere, quel dolore di vivere l'isola. C'è tra i tuoi scatti uno che ne rappresenta il significato? No, ce ne sono parecchi scatti, fra cui ce n'è una, una la vediamo qua dietro, la solitudine, diciamo, delle persone viene rappresentata in molte immagini come un'espressione non normale della persona, ma quasi un atteggiamento quasi reale, perché molte persone, le persone che ho fotografato, purtroppo vivono in una realtà un pochettino brutta. Romolo Madeleni, presidente dell'APF Augusta, per la seconda volta dà il benvenuto a Luigi Mirto, con la sua mostra Anonimi Siciliani, ormai è diventato un amico. Non solo un amico, ci siamo lasciati infatti nel 2011 con vite vissute e vite abbandonate, ci ha promesso che col prossimo lavoro l'avrebbe presentato anche da Augusta, Luigi Mirto che è riduce da importanti successi in città internazionali e che è diventato praticamente per noi da oggi socio onorario e che continua, come egli stesso ha detto, a portare la Sicilia nel mondo. Quindi è una parte di Sicilia che ci appartiene e Luigi Mirto continua sempre a deliziarci con le sue opere, con quel caldo bianco e nero che ci riesce proprio a far rivivere momenti spaccati della Sicilia che amiamo. Oggi abbiamo una presenza importante ad inaugurare questa mostra che è appunto il delegato regionale della FIAF, quindi non solo qui per inaugurare la mostra di Mirto ma per delle elezioni importanti, parliamo insieme. Sì, sono qui per presentare la mostra di Luigi Mirto su richiesta dell'APF ma anche per eleggere oggi il delegato provinciale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche nella provincia di Siracusa. È stato eletto il socio, il presidente dell'APF Romulo Maddaleni al quale va il mio personale augurio per un buon lavoro. Grazie per la visione!